amiche mie buongiorno oggi salva pranzo o salva cena come volete io avevo delle cose in frigo le volevo usare e si farà la torta salata partiamo allora io ho guardato un frigo e ho preso tutti gli alimenti che andavano quasi a male diciamo e ci avevo delle zucchine una carota cavolo cinese una cipolla pasta sfoglia due rotole che erano scadenza e la mozzarella allora ho lavato le verdure ora le taglio tutte e si saltano in padella prima mettiamo la cipolla lo tagliamo e lo mettiamo con un po d'olio a soffriggere un pochino vedete proprio per farla ammorbidire non troppo insomma e io in questa ricetta vi consiglio di mettere tutto quello che avete in frigo magari che scade che ne so a giorni o verdure un po appassite un po moscerelle che verrà buonissima la torta guardate lasciamo la cipolla un po soffriggere amiche mie e nel frattempo saltiamola un pochino sanno damone una mescolatina e nel frattempo taglieremo le nostre verdurine guardate la cipolla e già bella rosolatina vedete e aggiungiamo le verdure che abbiamo tagliato già a cubettine tagliatele come le volete come voi volete insomma importante queste verdure non cuocerle troppo lasciarle un po croccante perché è proprio qui il segreto le verdure sono buone croccante quando sono troppo corte non lo so a me non piace però voi fate lo vostro piacere io le lascio sempre croccante nelle salto poco poco nel frattempo aggiungo sale pepe e un po di spezie se vi piace o un mix di spezie asiatiche uso quelle voi usate quello che volete insomma saltate le proprio a fuoco alto poco poco vedete proprio giusto giusto una decina di minuti e ora le spengo perché le verdure sono pronte nel frattempo tagliato la mozzarella a cubetti ho trovato dei semini vari che metterò sopra la torta che sono molto buoni le verdure le lasciamo raffreddare perché se no viene un casino nel frattempo prepariamo insomma la base ecco ho srotolato la pasta sfoglia l'ho messo sulla teglia vedete a dicevo potete usare sia la pasta rettangolare sia quella rotonda io avevo questa in casa amiche mie chiaramente ho usato questo però non è che non succede niente ecco ho messo le le verdure e la mozzarella sopra e ho lasciato dai bordi anche il salamino vedete tutto mettiamo ho lasciato dai bordi un po di spazio perché così si chiude dopo per venite venino la tortina avevo questo salame in frigo si che ho deciso di metterlo sanno sarebbe rimasto lì né a destra né a sinistra come dicevo si lascia un po di spazio non mettiamo finanzi ma insomma al ripieno e mettiamo ora l'altro vedete io ho già messo l'altra sfoglia sopra e ora lo chiudo così per venino cerco di chiuderla modo mio insomma vedete giratela un po su date le una forma eccola qua non ci vuole niente amiche mia davvero è molto molto semplice una volta fatta lo spennelliamo con un grosso dopo però ricordiamoci di bucarellarla con una forchetta vedete ho spennellato con l'uovo ho messo i semini vari sopra guardate che carino sì sì una salvacena proprio a volte uno dice che fu che fu apri frigo c'è delle cose in scadenza e fa una cosa buona 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 e ora si fa un forno 170 gradi per 25 minuti e mezz'ora vedete guardate che bellina che è molto poi c'è un profumo mammina davvero ed ecco a voi la tortina già pronta vedete proprio in vuole essere mangiata dice ma già mi mangia mi mangia mi come benigni nei film la vita è bella come diceva spegniti spegni che si spegneva uguale questa tortina fa mangia mi mangia mi amiche mi è provate la veramente molto molto buona saporita è veramente un'ottima idea per salvare una cena un pranzo arriva qualcuno all'improvviso sicché provatela vi mando un bacione e alla prossima ciao bellezza